Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi affronteremo una tematica completamente diversa dal solito. Anche prendendo spunto dai suggerimenti di voi ascoltatori, voi visitatori del mio canale YouTube, oggi ho deciso di aprire una nuova sezione del canale specifica sulle biografie di militari. Perché biografie di militari? Essenzialmente perché negli ultimi 5-6 anni mi sono dedicato molto alle biografie, ho scritto circa 100 biografie di militari da semplici soldati fino ad arrivare a generali e di conseguenza mi sembrava interessante affiancare agli altri video un po' più leggeri anche tematiche tantantino più impegnative, più corpose sotto l'aspetto di storia militare in quanto tale. Allora io intanto vi faccio una piccola reclamma e vi indico questo che è il mio libro principale sulle biografie, si chiama Il generale di Mussolini, questa è l'edizione nuova e questa è l'edizione vecchia, troverete essenzialmente questa anche in ebook, anche in ebook potete prendere. Poi se vi piace, se no ascoltate quello che vi dico. La biografia di oggi è di un personaggio molto discusso, il generale Sebastiano Visconti Prasca. Inizio subito come mia abitudine negli ultimi libri che ho scritto, che ogni capitolo ha una sua introduzione con una citazione. Questa citazione è di Enrico Caviglia, maresciallo d'Italia, una persona molto competente che nei decenni ha sviluppato tutta una serie di esperienze che lo hanno portato anche ad avere un acuto senso critico riferendosi a Sebastiano Visconti Prasca. Non vi è dubbio che Visconti Prasca è una vittima politica. Bisognava colpire qualcuno, Mussolini non si può colpire, Roatta è al potere e in questo momento è lui che colpisce. Badoglio è già cucinato, non restava che Visconti Prasca, il quale ha fatto quanto di meglio poteva fare, date le circostanze e con le forze di cui disponeva. Caviglia è secondo me troppo tenero nei confronti di Visconti Prasca, adesso capiremo perché. Visconti Prasca, classe 1882, nasce a Roma da una famiglia di origini nobiliari, aveva la madre francese e vedremo come questa caratteristica di avere la madre francese, ovviamente lui parlava benissimo la lingua francese, sarà un elemento di grosso influenza sulla sua carriera militare e sulla sua attitudine a una certa capacità diplomatica sia all'interno delle forze armate, delle gerarchie, sia anche all'interno di certi ambienti politici. Entra nella scuola militare di Modena, all'epoca era suddivisa, le armi dotte erano nell'accademia a Torino, mentre le fanteria e cavalleria erano a Modena, si chiamava scuola militare, l'istituto di formazione per gli allievi ufficiali e ha come compagno di corso Ubaldo Soddu, un altro personaggio che avremo modo di conoscerlo. Visconti Prasca inizia quindi la sua carriera militare come ufficiale di fanteria, va in Libia durante la guerra italo-turca, partecipa alla Prima Guerra Mondiale e la Prima Guerra Mondiale, che non lo vede particolarmente brillare in senso operativo, però gli offre l'occasione di tessere un'importante tela di relazioni che sarebbero state molto fortunate per lui, divenendo tra l'altro ufficiale di Stato Maggiore. Questa condizione di ufficiale di Stato Maggiore gli garantirà la possibilità, poco dopo la della firma dell'armistizio con l'Austria, di accedere come collaboratore del Comando Supremo. Questo suo incarico poi gli offrirà altre opportunità, tra cui quella nei primi anni venti di essere nominato comandante della missione militare italiana nell'Alta Slesia, che era una delle regioni molto delicate, sapete bene che dopo la Prima Guerra Mondiale vi furono degli aggiustamenti anche sostanziali dei confini degli imperi centrali e di conseguenza vi era la necessità di, in quanto possibile, stemperare possibili recriminazioni, possibili anche scontri fisici militari tra fazioni, soprattutto in zone dove la componente etnico-linguistica non era ben definita e l'Alta Slesia era appunto una di queste, che era al confine tra gli ex imperi germanico e austro-ungherese e la nascente Polonia e poi quello che sarebbe diventata la Cicoslovacchia. Quindi questa zona altamente delicata sotto l'aspetto etnico-linguistico-linguistico e chi più ne ha più ne metta, rappresentava per le potenze vincitrici un incognito e quindi venne mandata questa missione. Visconti Prasca ebbe una notevole capacità di stricarsi in queste problematiche, ripeto parlava correttamente oltre al francese anche il tedesco, aveva delle competenze linguistiche non indifferenti e qui di conseguenza gli garantirono una certa attitudine a risolvere problemi, risolvere problemi soprattutto di natura politico-diplomata. Tornato in Italia ebbe modo di continuare la sua attività più che di comando, di corridoio potremmo definirla, e si avvicina gradualmente al personaggio forse più inquietante e più discusso della storia della prima metà del Novecento, ossia Pietro Badoglio. Entra nel suo entourage Badoglio che passerà da essere capo di stato maggiore dell'esercito a capo di stato maggiore generale e quindi ha un suo peso specifico, seppur non del tutto definito all'interno della gerarchia o quantomeno dell'ordine di comando delle forze armate italiane comunque ha il suo peso, nonostante appunto abbia una sua autorevolezza anche legata a un canale diretto con il re. Quindi Visconti Vrasca questa sua attitudine di relazione lo porterà a divenire addetto militare a Belgrado e questa sua capacità di strigarsi sarà molto attiva perché comunque Visconti Vrasca aveva un'esperienza di relazioni con gli slavi del sud che aveva in parte maturato anche durante la Prima Guerra Mondiale, quindi aveva una certa dimestichezza nelle problematiche balcaniche che aveva seguito, che aveva anche teorizzato, che aveva dato degli spunti interessanti per la risoluzione di determinati problemi che potevano emergere appunto nella zona danubiano-balcanica. Questa sua capacità di di grossa presenza per una serie di problematiche si andava ad affiancare a una sua non comune capacità di scrittura, era un grande intellettuale e quindi iniziò anche una produzione di articoli, di piccoli saggi che potessero corroborare le sue teorie. Quando tornò in Italia ovviamente la carriera politica proseguì, ci furono dei piccoli periodi di comando per consolidare i gradi che si sarebbero susseguiti per arrivare appunto al grado di colonnello quando tornò in Italia e ebbe un'altra esperienza accanto a Badoglio. E ci si trova di fronte a Badoglio nel periodo concomitante con l'uscita di un suo fortunato libro, il cui titolo, lo aspettate un attimo che non mi ricordo esattamente, non voglio sbagliare, si chiama la guerra decisiva. La guerra decisiva che nasce dalla sua esperienza pregressa a contatto anche con il generale Grazioli, che era stato un po' il metropensé di tutto un discorso di guerra dinamica, lo aveva iniziato nella prima guerra mondiale, quindi un discorso di necessità di rendere mobile, di rendere attiva, di rendere sempre propulsiva l'attività bellica stagnata dal quadriennio della prima guerra mondiale e quindi anche Visconti Prasca risente di questa dottrina e la esplica in questo volume, che è un grande successo, anche se effettivamente poi non va a definire l'aspetto operativo, ma la sua enfasi, la sua anche senso propagandistico di diffondere delle idee, ripeto, seppur vaghe, perché l'aspetto anche della guerra celere era ancora molto diluita, anche le normative che sarebbero susseguite negli anni non davano ben proporzione tra quello che veniva chiamato il motore e la vena, quindi ciò che era legato appunto all'aspetto di motorizzazione, a quello che era ancora legato alla trazione animale, alle biciclette, quindi non era ben definito, ma ebbe un grandissimo successo e Mussolini lo premiò per questo, gli dete un grosso credito e quindi questa sua opera gli garantì un nuovo accesso alla corte di Badoglio. La corte di Badoglio ebbe un certo riconoscimento, tra l'altro Badoglio, da sottile giocatore d'azzardo, lo utilizzò anche per cercare di eliminare i suoi possibili concorrenti, visto che siamo arrivati al 34, alla vigilia della campagna d'Etiopia, quindi la necessità di capitalizzare un po' il ruolo, chi fa chi all'interno della campagna d'Etiopia. La campagna d'Etiopia però viene all'inizio gestita da De Bono, un fedele di Mussolini per quanto riguarda la sua carriera anche politica all'interno del partito, nonostante alti e bassi che aveva avuto De Bono, e Visconti Prasca viene utilizzato da Badoglio un po' per mettere in cattiva luce Badoglio, quindi viene De Bono, viene mandato Visconti Prasca in Africa orientale e fa una relazione in cui evince, fa le pulci al discorso di De Bono, e questo elemento porta acqua al mulino di Badoglio che infatti dopo i primi settimane della campagna effettiva sostituirà De Bono. Nel frattempo però, nonostante appunto anche il suo peso specifico possa in qualche modo aumentare, Visconti Prasca si trova un po' nel gioco delle parti, tant'è che inizia ad essere odiato da molti, oltre ad essere odiato da De Bono, viene odiato da Roatta che è il capo del Sim, anche negli ambienti lo stato maggiore dell'esercito, tant'è che a un certo punto viene scaricato anche da Badoglio che in qualche modo non gli garantisce dei comandi in vista che gli possono offrire degli incarichi e dei gradi sempre superiore, però alla fine Visconti Prasca in qualche modo riesce a essere un equilibrista e viene assegnato, viene mandato a Parigi come ha detto Militare. Per Visconti Prasca era il massimo veramente come mandare un goloso in pasticceria, quindi andare a Parigi per lui era il non plus ultra. Va a Parigi, sta due o tre anni, ha una sua anche sberva intellettuale di scrittura, fa scrivere dei lavori su Giovanna d'Arco, sui rapporti tra Italia e la Francia, anche legati a un discorso di prospettiva. La Francia in quel momento era anche una sorvegliata speciale, quindi se i nemici negli anni 20 e 30 erano essenzialmente la Jugoslavia e la Francia, per una questione appunto di solidarietà tra i due, Visconti Prasca aveva l'esperienza a Belgrado, l'esperienza a Parigi poteva garantire ovviamente un senso di comprensione, anche un andamento di alleanze dell'Italia, che all'epoca era tecnicamente avviata verso la Germania, ma non era del tutto sicuro che poi vi fosse stata, fino al 39, una vera alleanza militare. Sta di fatto che alla fine Visconti Prasca torna in Italia ai primi del 40, verso il febbraio del 40, con anche un'esperienza diretta della situazione internazionale. A Parigi si fa un'idea un po' dei sentimenti, della temperatura che in Francia si possono recepire in base alle bordate tedesche, seppur limitate alla campagna di Polonia, però hanno il suo valore. Ebbene, Visconti Prasca non è convinto della micidiale potenza tedesca, dice sostanzialmente la Francia regge, non può capitolare, non può perdere una guerra contro i tedeschi. Ovviamente, come sappiamo, la situazione sarà completamente diversa. Visconti Prasca inizialmente viene tornato in Italia, viene mandato sul fronte francese e per suo anche disappunto, perché non si sarebbe sentito di combattere contro i francesi, però per onor suo, era nel frattempo stato promosso generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, va a essere inviato poi, senza dover combattere sul fronte delle Alpi occidentali, viene mandato in Albania. In Albania crea altri problemi, perché c'era Geloso, il generale Geloso che era un grosso comandante, uno che aveva combattuto e aveva polso sulle truppe, che era molto quotato all'interno dello stato maggio dell'esercito, appunto venne liquidato, ma venne liquidato essenzialmente per una ragione politica, perché in quel caso Galeazzo Ciano, ministro degli esteri, aveva l'interesse a già puntare sulla Grecia e di conseguenza gli serviva un elemento manovrabile, un elemento non del tutto fedele alla gerarchia dello stato maggiori dell'esercito, ma che potesse appunto inserirsi come una sorta di battitore libero. Ecco quindi che tra l'agosto e il settembre del 1940, Visconti Prasca viene quantomeno montato dal ministro degli affari esteri Ciano e da Mussolini in seconda battuta per programmare un attacco alla Grecia. Voi capite bene che nell'estate del 40, con una situazione assolutamente incerta in cui il fronte libico-egiziano è ancora bloccato e non si sa cosa si potrà fare. La guerra in Europa continentale è ormai chiusa perché la Francia ha perso, la prospettiva di attaccare l'Inghilterra è plausibile ma ancora non reale, quindi di conseguenza l'Italia cosa fa? Buttiamoci sui Balcani e risolviamo le problematiche che abbiamo nei confronti o della Jugoslavia o della Grecia. In questo caso a Visconti Prasca tocca la Grecia. Però capite bene che la situazione è in divenire. Nel frattempo, a metà settembre, Graziani attacca l'Egitto in maniera abbastanza lieve, con delle necessità anche logistiche di un certo peso e l'elemento della Grecia che doveva essere bruciante, doveva vincere con un effetto sorpresa, Ciano aveva garantito che i greci erano corruttibili, che avrebbero presto gettato le armi e avrebbero accolto in maniera pseudo facile gli italiani, questo non si sarebbe realizzato nell'immediato perché vi erano grosse problematiche di organizzativo e logistico. Perché? Perché nel frattempo è una questione di anche propaganda. Molte classi di leva vennero rimandate a casa per far capire anche che la guerra era sostanzialmente vinta e quindi non serviva avere troppe truppe in campo mobilitate. E quindi che succede? Che la situazione da bruciante in fronte della Grecia si blocca, si spegne quasi di magia e ritorna in maniera preponderante quando a ottobre la Germania sostanzialmente occupa militarmente con un accordo la Romania e di conseguenza Mussolini, senza che sia stato avvisato, deve reagire, deve avere un colpo di coda, non può farsi così prendere per il Nato da Hitler e di conseguenza ordina Visconti Prasca di attaccare la Grecia. Il problema è che sostanzialmente l'effetto sorpresa non ci sta più perché se ne parla adesso di questo attacco alla Grecia e la Grecia è sicuramente molto più inorgoglita, molto più preparata rispetto a due mesi prima. Mentre le truppe italiane che hanno subito anche questo parziale smobilitazione non sono preparate, quindi Visconti Prasca si troverebbe di fronte a un impianto difensivo in montagna, in autunno inoltrato, con delle truppe che devono anche superare il canale d'Otranto, quindi con delle necessità impellenti, non è la migliore condizione. Però il problema sostanziale è che Visconti Prasca si trova in una situazione che non può dire di no, si trova in una situazione che è la scommessa della sua vita, se ottiene il vantaggio, se ottiene la vittoria, probabilmente potrebbe anche essere nominato maresciato d'Italia e quindi questa cosa lui inorgoglisce. Da una parte però si trova lo stato maggiore dell'esercito con Roatta, facente funzioni, che lo osteggia. Dall'altra parte Soddu, sottosegretario alla guerra, che invece in qualche modo lo stuzzica perché anche lui è tentato da poter ottenere altri vantaggi politici e militari. Ma alla fine leggiamo questa frase che è secondo me indicantiva, che ci fa capire anche il senso di pressione che abbiamo nei confronti di Visconti Prasca. Questo è Mussolini che parla, il 25 ottobre. Voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico adesso, che mi sono opposto a tutti i tentativi fatti per togliervi il comando alla vigilia dell'azione. Credo che gli eventi, ma soprattutto l'opera vostra, mi daranno ragione. Attaccate con la massima decisione e violenza. Il successo dell'azione dipende soprattutto dalla sua rapidità. Ebbene, voi capite che fine ottobre, maltempo, in montagna, poche truppe nei confronti dei Greci. Mare in tempesta, con difficoltà di trasferimento di tutto ciò che serve dalla madrepatria all'Albania. In Albania strade pessime. Tutto un circolo a Roma che osteggia questa ambizione, che vuole fare le scarpe a Visconti Prasca. Secondo voi, Visconti Prasca potrà riuscire a attaccare bene la Grecia e arrivare a Atene in poche settimane? Direi di no. La vita politica di Visconti Prasca finisce nel volgere di altre due o tre settimane. Soddu, che lo aveva pompato fino all'esasperazione, gli farà le scarpe, prenderà il suo posto e Visconti Prasca costruirà la sua carriera, che è finita sostanzialmente, viene anche messo fuori ruolo nelle forze armali, nell'esercito, avrà un sussulto dopo l'8 settembre in cui capirà che il vero nemico sono i tedeschi e quindi abbraccerà ormai settantenne la strada verso la grande destinità, farà il partigiano. Verrà per questo anche arrestato, mandato in un campo di concentramento dove passerà due anni, quasi due, no, sì, un anno e mezzo della sua vita, in maniera abominevole, stenti, di qualsiasi possibile turbamento, angheria da parte tedesca, anche perché era un generale comunque designato d'armata, si cercherà di convincere ad aderire alla Repubblica Sociale ma non lo farà, liberato dai russi, si farà un altro periodo di detenzione sotto ai sovietici, racconterà che avendo lui una competenza linguista conosceva in parte anche il russo, quindi ebbe modo di riuscire a dimostrare le proprie ragioni, di far capire ai russi di chi fosse, quale ruolo avesse avuto nei decenni e quindi alla fine riuscì a riparare in Italia. La parabola di Visconti Prasca ci dice che effettivamente è un uomo anche capace per alcune cose, però non aveva quelle competenze che servivano e soprattutto non aveva quella dirittura morale necessaria per un comandante che deve in alcune circostanze saper dire di no. Io vi leggo l'ultimo commento detto da Mario Cervi. Ce n'era uno di generale che aveva l'impulsività di un Rommel ed era Visconti Prasca, ma delle qualità di Rommel aveva solo l'impulsività. Quindi questo ci fa anche capire la situazione. Oggi siamo nel 2020, sono 80 anni dalla dichiarazione di guerra italiana alla Francia, alla Gran Bretagna e riflettiamoci su questa cosa. Non sempre si può credere, obbedire e combattere, credere, bisogna anche riflettere, bisogna avere anche un senso critico nelle cose, perché sennò bisogna saper consigliare chi abbiamo sopra senza ovviamente mancare di rispetto, ma bisogna sapere anche dire di no e prendersi le proprie responsabilità e eventualmente dimettersi, cosa che Visconti Prasca e tutta un'altra serie di persone non hanno fatto e ci hanno portato veramente al baratro. Chiudo il video con il libro, eccolo qua, io ho aggredito la Grecia. Visconti Prasca, questo è un libro del 46 se non vado errato, e ha cercato di difendersi, di dire la sua. Sì, per carità, è una vittima delle circostanze, ma se tu, come diceva una frase, mi ricordo del film I Magnivi 7, ho visto un uomo che si è spogliato e si è buttato sopra un cactus, e gli ho chiesto perché, e lui ha risposto, beh, sul momento mi sembrava una buona idea. Ecco, Visconti Prasca, ti è sembrata una buona idea attaccare la Grecia in autunno, in salì, montagna, con scarse logistica, eccetera, eccetera. Se hai avuto quel risultato, purtroppo, non dico che te lo sei cercato, ma potevi essere più attento, potevi anche valutare delle cose, quindi ad essere troppo uomini del sì, yes man, si paga, si paga, alla lunga si paga. E questa è la vicenda triste e grottesca di Visconti Prasca. Alla prossima.